ciao ragazzi ben ritrovati dal vostro pezzo adesso dobbiamo andare avanti con l'intombrider allora tra l'altro qua le sto sapevo di questa semplicemente perché un attimo fa avevo fatto il video però ho fatto una piccola prova per vedere se c'era il microfono acceso poi sono uscito da gioco e ho riguardato il video se c'era il microfono acceso e mi sono accorto che la destra c'era il una cosa più siccola detto qua quindi andiamo avanti allora no qua non fia che cazzo cosa c'è di qua to una gallina ti faccio cuore cuore gallina di merda abbiamo cucinato il pollo sì ok più uno e la fredda ah non c'è mi aspettavo di trovarlo cosa c'è qua un cazzo boh vabbè comunque qua ci uo guarda materiali qua bohia dio ma te come cazzo ah ok bianca pio uno poi l'interno no cosa c'è allora ve lo porto un po' più lungo perchè quello precedente la c'è un buco quindi forse dovevo andare da di là andiamo a vedere lo porto un po' più lungo questo episodio semplicemente perchè altra volta è arrivata mia madre a rompere le scatole tutto qua io esco da qua? no ma che cazzo ma che cazzo com'è che lo centro da qua riesco o no io ero da giù se ce ne sono no da qua non posso e beh se mi è stato troppo facile guarda qua l'altro da la e' l'altro da la e' l'altro da di la poi sono tantissimi materiali che mi danno eh non mi piace come cosa cioè nel senso di dire fan culo quando ti danno così tantromba vedi a che ti vuol dire che c'è qualche casino da fare dopo ah da capo credo dio che no che culo un perno adesso ha preso che razza di culo bello non è 30 per 550 materiali non male più altri 65 di là fanno 215 roston se ho detto 150 più 65 fa 215 più altri 60 275 metri minchia meglio di una tomba non male non male non 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 trattato con una trascolta preso 6 non 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 35 ma a meno non tempo con misbie voglia che sia nel momento chiedersi cioè in la sta da sto.it so 3 no 3 3 4 3 2 4 2 buh vabbè buona qua non c'è niente aspetta che cazzo 9 di 15 non male eh? ecco voglio la diminuzione bella ma cazzo c'è finito eh vabbè Q no sbagliato ah contabè vero c'è uno qui ma dove? che non me ne ho anche visto vai andiamo giù però la terapia non mi ne ho neanche accorto non c'è niente non c'è niente da comicino no era indistruttibile cazzo racconto e la c'è niente ora c'è niente vediamo cosa c'è qua un recipiente cerimoniale della dinastia Song di ottima fattura attimo portatelo via sulle altre fiori c'è c'è la finestra aperta quindi sentirete un po' di casino ma fa un caldo boia oh 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 21 gennaio 1997 i solari i guerrieri del sole sono ormai un esercito e ho scoperto tutto ciò che mi serviva per passare alla fase successiva del piano è tempo di spostarsi nella sua terra costruiremo la nostra città sulle montagne intorno al vecchio palazzo da lì potremo difenderci dai guardiani Oni e accedere rapidamente a ogni angolo dell'isola devo tenermi pronto a catturare chiunque arrivi qui da noi ora so cosa cerco ok la chiave per la nostra fuga è forse molto molto di più lo troverò a costo di impiegarci anni ottimo un nome anche determinato oltre che folle allora memoria di un folle ecco per l'appunto Mattias spinse i solari a realizzare tutto questo in nome dell'antica regina di un'antica regina giapponese incredibile si è vero bravo Mattias anche se anche te lo sennete molto molto sveglio rispetto a altri cattivi di altri giochi anche se dovrì l'ho fatto fin troppo facile guarda quanto che cazzo è a un metro da me cioè minchè non possono sparare tipo 800 miliardi di munizioni si è vero sulle i cattivi per poi guarda qua dov'è l'altro ma anche questa bella finita il sfido che culo no che volo mi è rinfantato dove cazzo me la perfetto c'ero sopra madonna santissimo fanculo da suoi scommettete che devo farmi in tutto il giro fanculo e son caduto da la vabbè a sto punto andiamo a trovarne altre canite vediamo sto andando di qua quindi andiamo a prendere questa che è qua avanti dai 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 oh 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 ho visto munizioni bello che culo e hop l'ho visto un'altra ma è questa te l'altro quella che l'ho segnata si allora buona vai qua e di là di là ci arriva andando di qua non lo vedo però riesco a passare ah ecco qua il il bucchetto che hanno fatto l'altra volta eccolo sono troppo veloci ragazzi sono veramente troppo veloci prendete le compense buono adesso le ultime due più distanti vabbè l'assimo saltate un po' sta parte con spingendo avanti comunque io vi dico non taglio niente aiuto vai vai dove dove di là tra l'altro eh ah tra l'altro qua c'è un un scritto ma che si può aprire qui abbiamo rete 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 rettificato rettificato quindi qua è vero si dopo ah dopo dopo ha finito adesso vediamo dopo ciao adesso mi tolto non 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 Grazie a tutti